Caro albergatore, se anche tu sei tra coloro che non rispondono alle recensioni online, bene, ti dico fermati, guarda questo video e vedrai che alla fine di esso anche tu inizierai a rispondere. Benvenuto in Social Media Hotel. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo del perché noi dobbiamo rispondere alle recensioni online. È uno degli elementi davvero importanti della nostra comunicazione online e ovviamente io lo rendo sempre parte del metodo Social Media Hotel che io propongo poi ai miei clienti. Oggi vedremo quindi la parte strategica di questo aspetto della vostra reputazione online, non parleremo invece di come farlo, di come si risponde a una recensione negativa, di come si risponde a una recensione positiva. Questo lo vedremo in un altro video. Ovviamente prima di iniziare non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivando le notifiche consiglio di non perdere tutti i miei contenuti. Ma iniziamo, vediamo un attimino queste recensioni online. Beh, noi dobbiamo rispondere alle recensioni, è importantissimo perché fanno parte, come vi dicevo prima, della nostra reputazione. Alcuni di voi però non lo fanno. Ok, una volta mi è stato risposto, no guarda io non rispondo alle recensioni online perché sono tutte false, anzi nemmeno le leggo. Ora, premesso che non ci credo che nemmeno le leggiate, ma pensiamo che il caso sia questo. Bene, voi fate tanto lavoro offline, pagate dipendenti, cercate di mandare avanti, quadrare i conti, tutto quanto, poi vi distruggono online e voi che cosa fate? li lasciate fare? Questo non significa che io vi sto dicendo, no, mi raccomando, chiamate l'avvocato, fate la causa, perché in questo caso a tutti passa la fantasia di intervenire. Ma nemmeno leggere, nemmeno intervenire e fare in modo che queste recensioni eventualmente vengano cancellate. Che credetemi, io so che online abbiamo a che fare con i pazzi, a volte ci sono. Una volta mi è capitato di dover gestire con il mio team una recensione che aveva ricevuto un mio cliente, che cosa era successo? Questa qui aveva avuto un problema al ristorante e il cameriere non aveva sorriso abbastanza e quindi lei in questa recensione ha detto che il cameriere ha sorriso poco, quindi viene sottopagato, fa orari ex, eccetera, eccetera, c'era tutta una serie di cose che tra l'altro proprio in quel caso non erano vere, con le risposte, con il metodo social media hotel, che cosa è successo? Ho risposto a questa recensione perché soprattutto quelle negative vengono gestite da me, oltre che dal mio team, abbiamo risposto, abbiamo risposto come si conviene, in modo perfetto, addirittura questa signora è arrivata a cancellare in autonomia la recensione. Ma noi non dobbiamo fare in modo che le persone ci distruggano online, o mettiamo che voi le leggiate o comunque vediate queste recensioni, mi raccomando non vi basate solamente su queste maledette stelline, perché le recensioni non sono solo la stellina, ma è importante il contenuto, noi dobbiamo leggerle sempre, ok? Vi racconto quello che mi è successo in passato quando ero dipendente, avevo un direttore che era fissato con queste maledette stelline, perdevamo mezza stellina, la giornata era assolutamente rovinata, solo che cosa succedeva? Che lui non leggeva mai il contenuto e provava a spiegargli la prima, la seconda, la terza, noi in quel caso avevamo un problema con la colazione, lui mangiava al nostro ristorante ma non faceva mai la colazione, tant'è che un giorno all'ennesima sfuriata, mi ero scocciata, perché io invece a lei leggevo le recensioni e intervenivo di conseguenza, solo che in questo caso niente, non si interveniva mai, quindi che cosa ho fatto? Ho preso il caffè, che era la problematica principale che avevamo, ho preso un cornetto, glielo ho portato e ho detto direttore ora deve assaggiare la nostra colazione, perché dall'altra parte non abbiamo tutti dei cretini o persone che lasciano recensioni false, leggiamole queste recensioni, se tutti quanti riportano il problema della colazione, un motivo ci sarà, io lo sapevo che il motivo c'era, perché in quel caso il caffè della colazione con la macchinetta era terribile, diciamo così, e i cornetti erano di cartone. Nel momento in cui li ha assaggiati, si è reso conto, siamo intervenuti, non abbiamo avuto più recensioni negative sulla colazione. Capite bene quanto in questo caso è bastato assaggiare, intervenire, abbiamo risolto il problema delle recensioni negative. Perché dobbiamo continuare a farci affossare da questo punto di vista quando in realtà potremmo intervenire e leggere. Quindi dovete capire bene che dall'altra parte non ci sono semplicemente cretini, ma persone che effettivamente vi stanno lasciando una critica costruttiva che vi aiuta a crescere. Detto questo, le recensioni quindi non ci aiutano però solamente a crescere, ma anche a migliorare il nostro posizionamento online. Perché nel momento in cui poi iniziano anche gli utenti stessi a utilizzare determinate parole chiave, ecco il nostro posizionamento online migliora notevolmente. Stessa cosa succede poi con le risposte che poi noi andiamo a dare. Perché come vi dicevo c'è un metodo di risposta, sia le recensioni sia una S positive, sia una S negative, va risposto in determinato modo. Quando la recensione è positiva per esempio, un semplice grazie non basta. Quindi ci saranno determinate cose che noi andremo a fare e una di queste cose è quella di inserire delle parole chiave di nostro interesse che ci aiutano nel posizionamento online. Ma una delle altre cose che noi andiamo a fare nel momento in cui c'è da dare una risposta alle recensioni è quello di metterci un nome. È un ruolo perché dall'altra parte non sta rispondendo la struttura, il brand, ma sta rispondendo un essere umano. Quindi che cosa sta succedendo? Stiamo andando ad umanizzare il brand. Questa è una tecnica di marketing molto utile, soprattutto nel momento in cui il brand va a fare un errore, anche un errore molto importante. Perché nel momento in cui dall'altra parte c'è un essere umano che fa l'errore bene, l'essere umano si tende a scusarlo molto più facilmente rispetto al brand. Perché che cosa succede risolto? Il brand si mette sul piedistallo, dice ok, amami, vieni da me, dammi i tuoi soldi, compra. E quindi che cosa succede? Io, piccoletto, ti guardo, guardo te che sei lì in alto, ti veno e dico sì, sì, non vedo l'ora di darti i miei soldi. Nel momento in cui nel marketing moderno, perché questo è quello che succede adesso, il marketing moderno, il brand scende dal piedistallo e si umanizza e si mette quasi alla pari con i suoi clienti, bene, in quel caso, quello è un brand vincente nel 2024 e soprattutto è un brand che viene, come vi dicevo prima, scusato molto più facilmente nel momento in cui ci sono dei problemi. Solo che in qualche modo noi questo brand lo dobbiamo umanizzare. Ci sono tante tecniche che noi possiamo utilizzare, ma allo stesso tempo lo possiamo fare anche con una semplice firma all'interno delle nostre recensioni, all'interno delle nostre risposte. Rispondere alle recensioni è davvero fondamentale, soprattutto riceverle. Noi le dobbiamo comunque gestire, invogliare, incentivare i clienti a farne sempre di più, perché poi quello è un processo importantissimo nella fase di acquisto dei nostri clienti. Nel mondo digital questo è uno step importante, quello che precede è quello dell'acquisto. Quindi calcolate che la maggior parte degli utenti prima di acquistare si informa su di voi e come lo fa? Lo può fare tramite amici, tramite parenti, ma soprattutto prende il cellulare, va online e va a cercare cosa ne pensano di voi, dei perfetti sconosciuti, come lo fanno? Attraverso le recensioni e attraverso i portali più famosi che può essere ad esempio TripAdvisor, Booking o Google. E quindi capite bene che voi non potete lasciare allo sbando tutta questa parte importante che va a definire il vostro brand. Oltre a tutto quello che io vi ho detto finora, rispondere alle recensioni è importante perché denota attenzione al cliente, soprattutto quando noi parliamo di recensioni negative. A maggior ragione lì dobbiamo rispondere, va risposto in un determinato modo e nel momento in cui lì troviamo dall'altra parte una risposta fatta per bene, anche se io utente vado a leggere la recensione negativa, nel momento in cui leggo la tua risposta albergatore denoto attenzione al cliente. Quindi nel momento in cui io vado ad avere un problema per sua vostra struttura, so che voi vi attiverete per fare in modo di risolverlo e non sarete invece lì a fregarvene altamente. Quindi da questo io voglio collegare a un punto che per me è molto importante. Se già mi seguite questa cosa ve l'ho già detta più e più volte. Attenzione a chi affidate questo compito. Se voi siete miei clienti, vi affidate a metodo social media hotel, questa è una cosa che non vi deve preoccupare assolutamente perché ce ne prendiamo in carico io con il mio team. Ma nel momento in cui ve ne volete occupare voi e non volete farvi aiutare nessuno, non fate seguire nemmeno un corso a coloro che devono rispondere ai commenti e alle recensioni, bene, in questo caso fate veramente attenzione e il lavoro all'inizio lo dovete assolutamente controllare perché ve l'ho detto più e più volte anche in altri video ci sono tantissime persone che non possono fare questo lavoro, non possono rispondere alle recensioni perché hanno magari delle frustrazioni loro nella loro vita che cosa vanno a fare? Vanno a rispondere male ai vostri clienti e vanno a rovinare la vostra reputazione online. Questa cosa non deve assolutamente accadere. Andate a distruggere tutto il lavoro che voi fate giorno dopo giorno. Ormai dovete capire che il mondo online non è più una cosa separata, non è più un qualcosa che voi andate a fare in più giustoperra a tempo perso ma fa parte della vostra strategia offline. Quindi mondo offline, mondo online uniteli e pensatevi come un'unica cosa. Quindi di conseguenza non vi potete permettere un dipendente che inizia a rispondere male online ai vostri clienti anche se siete voi i primi che volete farlo perché così come vi ho detto all'inizio del video i pazzi ci sono. Digestisco giornalmente queste persone. Quindi attenzione mi raccomando questo è il miglior consiglio che io oggi vi posso dare in questo video. E infine vi voglio lasciare con un altro prezioso consiglio ovvero quello mi raccomando di rispondere sempre. I clienti che abbiano lasciato o meno una recensione positiva o negativa vi hanno dedicato del tempo. Voi dedicatele altrettanto tempo rispondendo a una recensione. Bene spero che questo video vi sia stato utile. Da oggi penso che molti di voi inizieranno a rispondere alle recensioni online sicuramente il vostro brand apparirà molto più professionale. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto i commenti oppure se volete una consulenza conoscitiva con me qui sotto trovate il link che vi riporta al mio sito web. Prima di andar via non vi dimenticate di iscrivervi al canale attivando le notifiche e io vi aspetto nel prossimo video. Besos! Grazie! Grazie! Grazie!